Open bilancio, ovvero un documento non solo accessibile online, ma anche comprensibile e utilizzabile dai cittadini per analizzare le scelte e le azioni del Comune di Arezzo. Lo strumento è disponibile online sul sito dell'ente www.comune.arezzo.it ed è al primo posto nella colonna in evidenza. Sono pubblicati i dati degli ultimi cinque anni, cioè dal 2009 ad oggi. Sono indicate le entrate e le uscite, i trend, cioè l'andamento nei diversi anni delle uscite suddivise per i diversi titoli di spesa, spesa corrente, conto capitale, rimborsi, prestiti, servizi, conto terzi. È possibile anche un download dei dati. Anche ad Arezzo arriva Open bilancio, non è solo e semplicemente il trovare un bilancio del Comune online, ma si tratta di uno strumento, di un'interfaccia che rende assolutamente leggibile il bilancio attraverso grafici, comparazioni, una lettura semplificata che permette anche al cittadino di accedere a quello che poi è uno strumento di pianificazione di grande valore per il Comune. Oggi come oggi, che ci sono poche risorse, il patto di stabilità ha senso ancora di esserci? No, i Comuni da molto tempo dicono che sarebbe ormai arrivato il momento di superare il patto di stabilità anche perché l'effetto concreto del patto di stabilità è quello di incidere sulla possibilità di fare investimenti, quindi di fare infrastrutture. Per rimanere un po' nell'argomento di oggi di fare anche infrastrutture di carattere tecnologico che effettivamente possano migliorare le nostre città. E non dimentichiamoci che i Comuni in questo contesto economico che viviamo potrebbero essere degli straordinari motori per la ripresa, proprio per gli investimenti anche di carattere tecnologico che possono porre in essere. In particolar modo penso alla realizzazione dei contenuti della Smart City. Credo che il Governo debba, lo ribadisco ancora una volta, mettere le mani a questa che pare una vera e propria vessazione e uno strumento che rigidisce la possibilità di sviluppo.